Benvenuti in questo nuovo episodio di Ori and the Blind Forest, il let's play sulla Definitive Edition. Nello scorso episodio eravamo arrivati all'ingresso dell'albero Ginso, ma un Goomon ha rubato la vena d'acqua, che sarebbe la chiave per aprire la porta. Infatti, senza la vena d'acqua, l'albero Ginso non è accessibile. Dobbiamo inseguirlo. Quindi Ori annuisce anche lui e andiamo all'inseguimento di Goomon. Vi ricordo che sto giocando su PC, in 4K 60 FPS, e che sto giocando a difficoltà difficile. Questa non è una blind run, ho già giocato il gioco. Però mai a difficoltà difficile, quindi mi sto cimentando in una sfida. E lo sto portando più che altro per farvelo conoscere, per farvi vedere la bellezza di questo videogioco. Eccolo, eccolo Goomon. Noi non possiamo andare di là perché c'è questo marchi-ingegno che ci blocca la strada. Però possiamo andare di qua. Eh, qui... Qui c'è qualcosina da fare, esatto. Queste piante sono timide. Quando vi avvicinate spariscono. Tu spara qua, grazie. Così possiamo prendere quella... Ecco, qui è un po' un problema però... Esatto. Bisognava stare attenti lì. Possiamo salvare, e direi di farlo. Lì sopra non possiamo salire, quindi continuiamo giù... ...alla ricerca di Goomon. Che infame quel Goomon. Vai, spacca qua. No. Eh, dovevi spaccare... ...il legno, non me. Vai, riproviamoci. Bene, così. Tu spacca la roccia qua. No, no, bro, spacca la roccia. Non la spacchi, spaccherai il legno qui, allora. Bravo. Quanto danno fa questa rana incredibile. Con un colpo mi ha quasi ucciso. Però di qua abbiamo... ...un frammento di energia. Che posso usare per salvare, curarmi... ...e poi... ...ricaricarmi l'energia. Uff, stavo per tre pareri. Allora, questo non si può distruggere con... ...la fiamma caricata, come vedete, vi faccio vedere. Si distrugge solo la roccia. Ci servirà un'altra abilità per distruggere quello. Noi salviamo di nuovo, perché abbiamo sbloccato l'abilità che ce lo consente di fare. Bene. Non bene. Queste morti gratuite. Vorrei anche cercare di finire il gioco con meno morti possibili. Anche perché vi ricordo che c'è la modalità una vita. Cioè, una cosa folle. Che io non farò mai. Signora pianta, sparichi qua? Brava. No, sparichi meglio. Brava. Gumon, dove sei? Vieni fuori, un po' come Shining. Grotta Lunare. Una nuova zona. Dove Gumon si sta andando a rifugiare. Io salvo di nuovo per non ripetere il filmato in caso di morte. Che avverrà, molto probabilmente. Guardate, questa è una zona un po' particolare. Che pelo che mi ha fatto lì. E qua non ci sono andato lì sopra. O me lo sono perso in questo momento. Beh, capitemi. Ero occupato a cercare di non morire. Aia. Lì c'è un ragnone. E quello non si può prendere attualmente. Uh. Attenzione qua, eh. Perché si può morire davvero facilmente. Però per fortuna c'è un checkpoint. Ecco qua. Partita salvata. Ci stiamo addentrando in una zona... Cavernosa. Di qua non possiamo fare assolutamente nulla. Ecco l'ogumon. Continua a scendere lui, eh. Noi salviamo sempre. E spesso e volentieri. La frustrazione maggiore che deriva da questo gioco è il fatto di dimenticarsi di salvare. Allora, qui non ci vado per ora. Di dimenticarsi di salvare e dover rifare magari una buona porzione di mappa. Magari poi se morite anche in maniera stupida la frustrazione è ancora più grossa. Qui abbiamo un altro cancello che volendo potremmo aprire se avessimo l'energia sufficiente. Ma gumon non è d'accordo. È tutto contento lui tra l'altro, eh. Gumon! Ci ha fatto cadere nel covo di gumon. Non abbiamo il frammento di pietra quindi la mappa per noi è totalmente oscura. Guardate che volo che abbiamo fatto. Non ci resta che andare avanti. Com'era Dark Souls? Anche senza risposte bisogna comunque proseguire. Eh, più o meno qui è la stessa cosa. Questi marchi ingeni incredibili in cui si rischia di morire proprio come niente. Abbiamo intanto il frammento di pietra. una cosa buona e giusta. Aspettiamo che la rana si giri. Ok, siamo riusciti a non morire contro la rana. Una cosa abbastanza difficile. E qui però c'è un nemico da affrontare. Questo nemico si deve battere facendolo scontrare con i suoi stessi proiettili. Quindi voi li passate sotto essenzialmente quando spara e lui si farà danno quando rientrerà nella terra. e piano piano dovrete ucciderlo. Come vedete io all'inizio ho provato anche ad usare la fiamma caricata per fargli un po' di danno ma non ne vale la pena. Continuate a colpirlo e piano piano andrà tu. E' una sorta di mini boss. Mini boss alla Ori. Ecco qua. First try. Prendiamo il frammento di mappa. Prendiamo l'energia. Oh, non il frammento di mappa scusatemi, la chiave di volta. E andiamo avanti. C'è di nuovo questa rana temibilissima da affrontare. Non riesco a buttarla giù? No. Non è andata giù. A questo punto mi prendo la pianta qui e proseguo. Attento a non farvi schiacciare malamente da queste da queste rocce giganti. E si prosegue. qui sopra non possiamo arrivarci. Però qui abbiamo un punto di salvataggio free. Gratis. Qui bisogna stare attenti, eh. Esatto. Altrimenti si muore. Come ho appena fatto. bisogna essere più veloci. Andare subito qui sotto. Esatto. E lì tra l'altro c'è anche una una pallina d'esperienza che voglio prendere. Ecco qua. A difficoltà difficile ragazzi non dovete lasciare indietro niente. E non dovete nemmeno farvi schiacciare dalle rane assassine che cadono dall'alto. Quella rana si chiamava Al-Tahir. Vedete anche che i danni che facciamo ai nemici iniziano ad essere pochi. E l'altra chiave di volta è la dietro. Tosta da prendere. Io qui salvo. Ecco fatto. E salvo di nuovo. Proseguiamo nella Tana di Gumon. Vediamo dove ci porta. Qui bisogna fare un bel salto. E volendo potremmo salvare però non ne vedo non ne vedo l'utilità qui l'abbiamo appena salvato in realtà. Ok. La musica si è anche calmata. Guardate che belli gli scenari tra l'altro. Scenari che solitamente nei videogiochi sono brutti bui spogli le caverne no? Qui l'hanno reso di una bellezza incredibile. Oh calma calma che salto incredibile che ha fatto. Eh sì i nemici iniziano ad essere davvero ostici da uccidere. però abbiamo trovato un'altra abilità un albero ancestrale l'eru riposa qui era svelta agile e sfrecciava nell'aria. Secondo voi cosa ci dà se sfrecciava nell'aria? esatto hai imparato il doppio salto premia per effettuare un balzo in aria poi premilo di nuovo per saltare ancora più in alto classico dai classici ed ora potremo raggiungere molte più zone tipo questa abbiamo anche due frammenti abilità qui il legno è affondato per costringerci a fare il doppio salto come on guardatela come corre via e qui possiamo salvare dato che abbiamo anche un altro cristallo di energia prendiamo la fiamma scintillante per fare più danni ai nemici perché avete visto che già ci mettiamo parecchio tempo ad ucciderne uno ok ora va molto meglio vediamo anche la rana quanto ci mettiamo esatto molto molto meglio e qui possiamo salire aia che male che male ho failato malissimo lì dai mi ha colpito con l'onda d'urto mi ha colpito ma che infame vabbè allora io qui salvo così non dobbiamo rifarci tutto il pezzo in teoria qui se riuscissimo esatto ad atterrare qui avremo l'appoggio per saltare poi facilmente uh un altro di questi nemici vedete che anche questi ora li possiamo uccidere molto più facilmente anche loro però possono ucciderci molto più facilmente qui forse ci conviene usare la fiamma caricata e sbarazzarci di lui così ah non è servito comunque nulla perché i piccoli li evoca comunque sono con 1 hp e 0 di energia che però verrà ricaricata con questa salviamo anche per riavere una cellula energetica più che una cellula di vita più che altro e si può tornare indietro qui dove possiamo anche mettere la mappa di pietra e sbloccare quindi tutta la mappa come vediamo di qua abbiamo esplorato praticamente tutto siamo stati davvero bravi qui c'è il percorso per tornare su evidentemente e qui c'è la parte sinistra della caverna che è quella che dobbiamo esplorare ora qui il salto è ancora proibitivo non possiamo farlo quindi dobbiamo arrampicarci da qua oh calma 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 no ecco i controlli di ori sono fatti bene però sono un po' scivolosi in alcune situazioni tipo qui bisogna essere molto molto precisi non fatevi ingannare dalla grafica pucciosa è un gioco difficile però se siete precisi riuscite a fare le cose bene altri punti esperienza altro ragno da uccidere ecco qua non voglio che i tuoi punti esperienza cadano poi chissà dove cadono appunto allora se non sbaglio si va avanti di qua se non ricordo male noi però scendiamo qua esatto e ci possiamo curare possiamo anche prendere altra punti esperienza e uccidere anche questo ragno questo è un oggetto che quello che entra da sinistra esce dall'alto e quello che entra dall'alto esce da sinistra noi lo buttiamo giù in questo modo ci protegge dal laser ora però se noi lo buttassimo giù verremo uccisi dal laser quindi dobbiamo andare dall'altra parte aia o no o no da qui o no ok lo rifaccio molto velocemente ragazzi dai non taglio e lo rifaccio molto molto velocemente le caverne le caverne di gumon sono cioè la caverna di gumon è uno dei primi posti davvero ostici del gioco perché ho l'errore l'errore di non salvare come ho fatto prima e non cadrò nemmeno lì sotto tornerò direttamente indietro ecco qua salvo qua qui non possiamo andarci perché ci servono ci servirebbe la l'energia piena mentre qui forse dovremmo riuscirci a prenderla vediamo se ci riesco esatto in scioltezza questa è una cellulabilità ci dà un punto abilità semplice e veloce quando avremo abbastanza cellule energetiche dovremmo ricordarci che lì c'è quel quella porta esatto di qua si va avanti come avevo previsto hop no ehi calma 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 anche le rane però ora non riusciamo ad abbatterne molto più velocemente grazie al potenziamento che abbiamo fatto ecco questo ragno è davvero infame questo ragno è stato davvero infame perché ha sparato esattamente dove stavo per cadere però di nuovo se vi ricordate di salvare spesso come vedete arrivate abbastanza velocemente nei luoghi dove eravate morti questo punto di di energia però me lo tengo e questa volta faccio così ecco fatto bastava andare in alto per l'appunto per evitare quel ragno è bravo Koemon vediamo se anche noi lo saremmo altrettanto nooo l'avevo fatto first try senza nemmeno ricevere danno e qui ci permette di salvare quindi io direi di farlo come vi dicevo la caverna di Koemon offre una sfida offre per la prima volta una sfida interessante al giocatore guardalo Koemon che infame intanto qua apro la scorciatoia così potremo salire di nuovo da qua purtroppo la non avevo l'energia per distruggere quella roccia per i punti esperienza ce l'avrei ora ed è una cosa che farò salvando qua e andando a distruggere poi la roccia tornando indietro esatto vai scendi sentite intanto la musica che bella io cerco di non parlare in continuazione anche per farvi sentire un po' la musica che è una dei punti forti di questo gioco cioè bellissima e non avete ancora sentito niente né visto niente ah è rimasto incastrato sotto la roccia Koemon però ci ha anche tirato una frana incredibile addosso aia mi ha fatto il pelo quella roccia guardate le animazioni di salto di orison qualcosa di incredibile secondo voi gli è tratto un insulto e qui c'è un segreto era un po' di esperienza Ori portò bontà e speranza nel suo cuore ed anche un mega cristallo di energia hai recuperato la vena d'acqua questa antica gemma ti permetterà di entrare nell'albero ghinso ricorda l'elemento delle acque si trova in cima all'albero ghinso dobbiamo far tornare le acque a scorrere e ritornare immediatamente ed ora dobbiamo tornare qui sopra entra e rianima l'albero ghinso il nostro nuovo obiettivo che affronteremo nel prossimo episodio perché questo episodio questo quarto episodio finisce qui ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto di commentare ed iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti da Glacial Sphere e Ori è tutto al prossimo video